ciao a tutti ragazzi che come qua sono megateaker qua davanti a me di nuovo un paio di cuffie questa volta passiamo dalle costosissime steel series top di gamma quasi 400 euro di cuffie a un ordine di grandezza di quasi 10 volte meno ovviamente la cuffia non è paragonabile a quella che ho portato martedì ma sono molto molto contento di presentarvi questo prodotto anche perché stiamo parlando di un'azienda veramente nuovissima il suo nome è endorfi è sul mercato da ottobre del 2022 quindi veramente una casa nuova nuova ma che già dai primi prodotti che ho avuto modo di tenere in mano secondo me merita di essere considerata attentamente ebbene come vedete queste sono delle cuffie cablate stiamo parlando di un budget che in questo momento si attesta intorno ai 40 euro ma l'azienda stessa ha detto che sta lavorando per far sì di raggiungere un prezzo consigliato per queste cuffie intorno ai 35 le cuffie come possiamo vedere qua dietro montano un driver da 50 mm sono cuffie cablate con jack da tre e mezzo possono quindi essere utilizzate su tutti i dispositivi che hanno in dotazione un jack e l'azienda ha scelto questo grigio come segno distintivo dell'azienda io poi più avanti vi porterò anche questa tastiera meccanica ve lo anticipo già veramente molto molto carina ma oggi stiamo a parlare delle cuffie quindi andiamo ad unboxarle insieme vi faccio vedere come vi arrivano a casa vostra ed il contenuto della confezione ok ragazzi confezione girata al contrario perché andiamo subito a svelare quelli che sono i contenuti aggiuntivi essendo cablate danno in dotazione uno sdoppiatore per poterle utilizzare su pc quindi avere l'audio della cuffia e l'audio del microfono separati questo cavo non ve lo sto a srotolare comunque vedete un cavo telato carino anti antorcigliamento e la lunghezza si attesta sul metro e mezzo metro e mezzo che poi ovviamente si potrà andare a sommare con credo un altro metrino e mezzo di cavo delle cuffie jack da tre e mezzo in modo da poterle portare anche lontano dalla fonte libertino di istruzioni anzi in realtà c'è il QR code probabilmente lo potrete scaricare ad ogni modo cuffie veramente semplici nell'utilizzo non vado a perdere ulteriore tempo invece una bustina mi piacciono sempre poi adesso sotto natale le letterine mi sono veramente simpatiche non sto a leggere anche perché dietro al telecamera non ci vede una mazza ad ogni modo una piccola attenzione dall'azienda per i nuovi acquirenti andiamo quindi a vedere di fatto però le nostre cuffie quindi giriamo la confezione mi sono già perso un pezzo che è il microfono smontato da questa parte filtro pop up per la voce ovviamente removibile e sotto nascosto il nostro microfono quando ci sono questi filtri pop up che non danno una direzionalità del microfono mi fa sempre molta paura ho paura che la gente possa montare al contrario ad ogni modo vedete qua che c'è una scanalatura e quindi dopo vedremo nell'inserimento delle cuffie che la direzionalità della capsula del microfono non potrà essere montata in maniera errata prima ancora di guardare le cuffie guardiamo la piccola consolina per il comandi a disposizione abbiamo la rotellina girabile vedete con due dita con uno da sto lato o con uno dall'altro la rotella di fatto è la stessa comando per il mute del microfono e di fatto nulla più andiamo quindi ad estrarre le nostre cuffie per scoprire un design a dire il vero molto molto familiare design che molti hanno diciamola tutta un po scopiazzato che però veramente è sempre molto molto ben gradito in questa colorazione nera poi a me veramente piace moltissimo ma analizziamolo un attimo insieme archetto quindi in metallo imbottitura nella parte superiore dell'archetto scritta endorphi stampigliata sopra molto accattivante lo stile mi piace e fili in vista che anche questi a mio giudizio sono molto carini salvo il fatto state attenti a non prenderli con le dita a strapparli quando le tirate via dalla testa sul lato questo potrebbe sembrare una zona trasparente per un eventuale luce sotto in realtà vi dico che si tratta solo del marchio stampigliato mi è capitato di avere una cuffia simile alimentata per dare un effetto led al padiglione carina salvo il fatto però di avere l'alimentazione usb di fianco al jack e quindi nell'utilizzo soprattutto con controller la cosa era veramente fastidiosa i padiglioni come vedete sono in tessuto sono morbidissimi veramente e sono comodissime queste cuffie in testa sinistro e destro ovviamente caratterizzati da un letterone per i ciechi all'interno e padiglioni estraibili non li vado a estrarre adesso perché sennò dietro al telecamera non riesco più a metterli dentro ad ogni modo vedete potete sfilarli quindi andarli a lavare ed eventualmente poi andarli a sostituire il padiglione esterno è un padiglione in metallo è molto carino nero un po satinato l'effetto e per quanto riguarda la regolazione il classico archetto che si allarga in questo modo con dei piccoli click guardate quanto di fatto si allarga e l'archetto che tutto sommato sembra anche abbastanza resistente ebbene ragazzi io le ho provate le ho testate sono rimasto veramente molto molto colpito per la qualità sonora mi sono piaciute molto hanno un bilanciamento dei suoni veramente encomiabile bassi medi e alti lavorano in armonia nessuna delle frequenze è preponderante quello che invece mi sento di poter fare come piccola critica è che il volume massimo nonostante si abbiano dei padiglioni da 50 millimetri dei driver 50 millimetri il volume massimo è veramente basso non mi capita veramente spesso di dover alzare al massimo il volume della cuffia con queste spesso ho lavorato al massimo un massimo che tutto sommato ci sta come utilizzo normale è piuttosto appagante però effettivamente psicologicamente potrebbe creare qualche problema pensarle appunto regolate al massimo vi dicevo prima del microfono me lo stavo quasi scordando come vedete di fatto c'è questa scanalatura scanalatura che ritroviamo nell'attacco e quindi basterà mettere così e saremo sicuri che questa parte qua sarà la parte interna dove c'è la capsula del microfono visto che il video è breve comunque di solito lo faccio quasi quasi vi porto con me venite con me andiamo a fare un test sulla qualità di registrazione del microfono di queste endorphi viro infra ok ragazzi rieccoci qua cuffie in testa microfono posizionato davanti alla bocca in questo momento sto registrando con strip labs e non ho toccato alcun parametro sui decibel di registrazione quindi quello che sentite di fatto è quello che esce direttamente dalla mia voce ebbene questa è una prova per vedere la qualità sonora di registrazione di questo piccolo microfonino e per avere un'idea di come potranno sentirvi gli altri giocatori che saranno con voi in un party durante il gioco e bene ragazzi vado a riascoltarlo e poi passiamo insieme alle conclusioni finali del video ed eccoci qua con le conclusioni finali a cuffie ancora attaccate al pc freschissimo veramente il test audio l'ho ascoltato adesso mi è sembrato un audio assolutamente eccezionale con questo microfonino se pensiamo ripeto che queste cuffie costano intorno ai 40 euro adesso e hanno un prezzo consigliato intorno ai 35 beh che dire nelle conclusioni finali cuffie assolutamente validissime per il prezzo che costano a mio avviso almeno per questo modello nulla da invidiare da parte di endorphi ad aziende ben più blasonate come dicevo a inizio video sì è vero lo studio di design richiama cuffie già esistenti sul mercato ma chi se ne frega il risultato è molto gradevole molto bello mi piacciono molto e spero ovviamente che piacciono anche a voi nel caso andassimo d'accordo con i gusti vi lascio giù in descrizione il link per acquistarle su amazon tenete monitorato il prezzo perché come dicevo potrebbe essere che scenda nei prossimi giorni io ad ogni modo tra i 35 e 45 euro sono cuffie che assolutamente vi consiglio se vi è piaciuto il video ovviamente lasciate un pollicione registratevi al canale accendete la campanella noi ci vediamo al prossimo contenuto qua ai mega ticker con le cuffie della endorphi vi saluto e ciao 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 Ciao